Dark Souls 3 arriverà nei primi mesi del 2016. Annunciato allo scorso e tra i 2015 il nuovo capitolo marcato From Software promette diverse migliorie anche grazie all'influsso di Bloodborne. Un classicone per i completisti, il franchise giapponese è pronto ad un ulteriore salto di qualità. Scopriamo il perché nella nostra top 5. Durante il recente E3 di Los Angeles, From Software ha rivelato il suo prossimo annunciato capolavoro, Dark Souls 3, in uscita nei primi mesi del 2016. Dopo l'eccellente Bloodborne, esclusiva per PlayStation 4 e di remastered Dark Souls 2 Scholar of the First Scene, il team di Miyazaki-san confeziona un'ottima evoluzione del capitolo precedente, miscelandolo con alcune caratteristiche del già citato Bloodborne. Scopriamo insieme quali sono i cinque motivi per cui i fan del motto You Died non dovrebbero lasciarsi sfuggire Dark Souls 3. L'Odelef è decadente, imputridita, scheletro svuotato e malvagio di una gloria passata. I ambienti sconfinato e trafitto da architetture graffiate dal tempo e dalla rovina. Durante la presentazione ufficiale Miyazaki ha parlato di una struttura ambientale ancora più tentacolare, avviluppata su se stessa, decisamente enorme e ricchissima di scorciatoie. Il sistema di combattimento ha meccaniche collaudatissime, fatte di scudi, capriole e backstab. Il ritmo è più sostenuto. La rivoluzione più consistente riguarda la gestione delle armi. Ogni arma godrà infatti di mosse specifiche che andranno a dispensire il combat system. Sul fronte tecnico e nonostante la natura multipiattaforma, Dark Souls 3 sembra già in ottima forma, con ambienti densi di dettagli ed effetti speciali spettacolari. È avvertibile qualche calo di frame rate che il team da qui all'uscita è pronto a correggere. Pur nel solco di un canovaccio apprezzato dai fan del You Died, Dark Souls 3 annuncia diverse novità, soprattutto sul fronte del combattimento, con boss fight ancora più improbi. Una piccola religione per gli hardcore gamer più pazienti e doviziosi, Dark Souls 3 non mancherà di stupire i possessori di PlayStation 4, Xbox One e PC.